primo libro di samuele capitolo 9 dal verso 22 fino al verso 6 del capitolo 10 addio vada la gloria ma samuele prese saul e il suo servo l'introdusse nella sala e li fece sedere alla testa degli invitati che erano circa 30 persone samuele disse al cuoco porta qua la porzione che ti ho data dicendoti tienila da parte vicino a te il cuoco allora prese la coscia e ciò che vi aderiva e le mise davanti a saul samuele disse ecco ciò che è stato tenuto da parte mettitelo davanti e mangia poiché è stato conservato apposta per te quando ho invitato il popolo così saul quel giorno mangiò con samuele poi scesero dall'altro luogo in città e samuele si intrattenne con saul sulla terrazza l'indomani si alzarono presto allo spuntar dell'alba samuele chiamò saul sulla terrazza e gli disse vieni perché devo lasciarti partire saul si alzò e uscirono insieme egli e samuele quando furono scesi alla periferia della città samuele disse a saul di al servo che ci preceda e il servo li oltrepassò allora samuele disse ma tu fermati e ti farò udire la parola di dio allora samuele prese un vasetto d'olio lo versò sul capo di lui baciò saul e disse il signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità oggi quando tu sarai partito da me troverai due uomini presso la tomba di rachele ai confini di beniamino a selsa i quali ti diranno le asini che stavi cercando sono state trovate tuo padre non è più in pensiero per le asine ma è in pena per voi e si domanda che dovrei fare per il mio figlio e quando sarai andato oltre arriverai alla quercia di tabor incontrerai tre uomini che salgono ad adorare dio a betel uno di loro porterà tre capretti e l'altro tre pani e il terzo un otre divino essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalle loro mani poi arriverai a ghibea di dio dove la guarnigione dei filistei entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo e preceduti da salteri da timpani da flauti da cetre essi profetizzeranno lo spirito del signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo amè fin qui la lettura della scrittura vogliamo chiudere gli occhi e pregare il signore ti vogliamo ringraziare o dio perché la tua parola è un pane che discende dal cielo e che sazia il cuore di quanti sono affamati di verità e di giustizia ti preghiamo signore che lo spirito tuo possa guidare la meditazione della scrittura e possa edificare o signore i cuori nostri nel nome di gesù che è benedetto da ora in eterno gloria a dio state comodi gloria al signore il passo che abbiamo letto ci parla dell'unzione del primo re di israele vale a dire di saulo primo re perché da quando erano usciti dall'egitto gli israeliti non avevano avuto un re e questo perché il signore era il loro re se voi leggete lo avete fatto sicuramente più di una volta il libro dei giudici che è un po la storia di israele dopo o josue noterete che di tanto in tanto sorgevano appunto dei giudici che erano uomini mandati da dio per liberare israele dall'oppressione di qualche popolo straniero popolo che riusciva ad avere la meglio su israele perché israele cadeva nella disubbidienza e questi giudici dopo aver liberato israele si preoccupavano di ripristinare l'adorazione del vero dio vale a dire il creatore del cielo e della terra e di mettere in pratica la torà la legge che mosè aveva dato al popolo di israele su ordine del signore e samuele era proprio uno di questi giudici il problema è che a un certo punto il popolo di israele gli dice prima samuele capitolo 8 verso 5 quindi qualche verso prima tu ormai sei vecchio i tuoi figli non seguono le tue orme stabilisce su di noi un re che ci amministri la giustizia come lo hanno le altre nazioni non era dio quindi che voleva dare un re a israele era israele che chiedeva un re a samuele e questo leggiamo dispiacque a samuele o meglio se siamo attenti vediamo che al verso 6 dice che a samuele dispiacque la frase dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi come le altre nazioni perché samuele era cosciente che i suoi figli non erano all'altezza di fare i giudici tant'è che le riprendeva in più occasioni però era dispiaciuto del fatto che quel popolo anziché rimanere fedele al signore nonostante avesse visto in samuele un buon esempio aveva deciso di andare dietro l'esempio delle altre nazioni anziché dire samuele prega finché il signore provveda un uomo che come te amministri la giustizia serva e ama il signore pregarono e chiesero signore dacci un re come le altre nazioni e questo non dispiacque solo a samuele ma dispiacque anche al signore perché quando samuele andò dal signore e lo pregò per questa proposta che gli venne da parte del popolo il signore gli disse dagli ascolto perché essi non hanno respinto te ma me affinché io non regni su di loro in effetti i figli di samuele erano stati solo una scusa per cacciare la teocrazia cioè il governo di dio questo questi uomini e queste donne guardavano al mondo furono attratti dal mondo e decisero di imitare il mondo e quindi decisero di chiedere un re come c'era nel resto del mondo naturalmente samuele dinanzi alle parole del signore che gli disse dagli ascolto facciano come vogliono cominciò a cercare un re e questo re gli venne indicato la parte del signore che guidò le circostanze affinché saulo diventasse il primo re del popolo di israele leggiamo infatti che saulo era un giovane bello a inizio del capitolo 9 tra i figli di israele non ce n'era uno più bello di lui era più alto di tutta la gente dalle spalle in su suo padre chissero un uomo forte e valoroso insomma aveva tutte le caratteristiche secondo il mondo per essere un buon re e allora il signore comincia a guidare le circostanze affinché saulo possa arrivare ad essere unto re di israele si perdono le asine del padre chiss il padre di saulo lo manda a cercarle cominciano a girovagare ma non le trovano e a un certo punto saulo dice giustamente al servo che era insieme a lui facciamo una cosa torniamocene perché il tempo sta passando le asine non le troviamo va a finire che mio padre si preoccuperà di noi e si chiederà non solo perso e si dirà non solo perso le asine ho perso anche eh mio figlio e il servo che è andato con lui ma il servo gli disse guarda che in questa città si trovavano a suf c'è un uomo di dio che è tenuto in grande onore si trattava di samuele tutto quello che dice succede andiamoci perché forse sarà lui a indicarci la strada che dobbiamo seguire e allora leggiamo che eh andarono da samuele il quale era stato avvisato il giorno prima dal signore che gli aveva detto guarda che domani verrà da te un giovane e quel giovane colui che io ho scelto affinché possa diventare re del popolo di israele quando verrà eh tu lo ungerai come capo del mio popolo e lui salverà il mio popolo dalle mani dei filistei perché eh è giunto a me il grido dei figli di israele i quali sono oppressi dai filistei e allora arrivi arrivati da samuele samuele accoglie saulo accoglie il servo eh gli gli mette davanti a loro una bella tavola dove mangiare e siamo arrivati al passo che abbiamo letto stamattina e tutta questa storia un po' ci ricorda una cosa importante e cioè che dio sa guidare le circostanze della vita affinché la sua volontà si possa adempiere e noi delle volte consideriamo come dei casi le cose che ci succedono ma se realmente crediamo e speriamo nel signore sappiamo che tramite tra aperte virgolette il caso chiuse virgolette il signore può guidare la nostra vita affinché il suo piano e la sua volontà si possano adempiere ricordiamocelo sempre perché delle volte ce ne dimentichiamo e pensiamo di essere stati dimenticati da dio ma dio non dimentica mai nessuno dei suoi figli può farlo una madre può farlo un padre ma dio no perché dio non è un uomo dio è dio e quindi egli sa come prendersi cura di quanti sperano e confidano in lui e leggiamo che arrivati lì saulo mangia con samuele poi scendono insieme in città e là si intrattengono sulla terrazza ed è quello su cui vorrei brevemente soffermarmi stamattina il desiderio del nostro samuele di gesù il nostro salvatore di intrattenersi con ciascuno di noi perché ai noi e questo lo sappiamo non è una novità viviamo in un tempo dove siamo presi da tanti impegni e sono spesso degli impegni leciti e anche legittimi e questo ci porta ad essere coinvolti in modo eccessivo dalle preoccupazioni della vita di questa terra e siamo talmente presi dal vortice degli impegni che non abbiamo più ormai tempo per intrattenerci col signore e questo è qualcosa che ci priva della vera gioia del cristianesimo che non è un culto durante la settimana o la domenica ma è una comunione un rapporto personale con dio e come samuele si volle intrattenere con saulo io credo che il signore si voglia intrattenere con ciascuno di noi siamo presi dalla vita fratelli sorelle e questo non è un'accusa a qualcuno è una constatazione di quello che succede nelle vite di ognuno di noi perché io come voi vivo in questo mondo io come lavoro io come voi ho una famiglia io come voi ho tutti gli impegni quindi comprendo voi e penso che voi comprendete me e proprio perché questa è la realtà che ci troviamo ad affrontare con la quale ci scontriamo è buono che riflettiamo se non sia il caso di intrattenerci un po o molto di più col nostro signore perché samuele si intrattenne col signore noi delle volte siamo talmente presi dalla vita che anche il culto stesso diventa un impegno come tanti altri ma dio ci liberi da questa visione della riunione in chiesa non è un impegno come tanti altri è un momento sacro in cui possiamo incontrarci con i fratelli e col signore e condividere la presenza e la benedizione di dio non è un impegno da incastrare insieme agli altri è un momento dilettevole nel quale possiamo trovare riposo e pace per le anime nostre è un momento in cui possiamo deporre i nostri piedi ai piedi del signore non è un altro impegno è un momento invece di gaudio per quelli che veramente hanno gustato gesù cristo come loro signore e salvatore e questo il tranello di satana farci vedere quell'ora la domenica e quelle altre ore durante la settimana come un'altra cosa che proprio non ci voleva perché abbiamo già tanti altri impegni un altro impegno non serviva cari non è un impegno è un momento in cui ci possiamo intrattenere col nostro signore o io prego a casa e leggo a casa e ci mancherebbe pure che non lo fai ma quando siamo qui non suonano i telefoni o se suonano li possiamo spegnere non suonano al citofono della porta non vengono i figli non vengono siamo qui in disparte sulla nostra terrazza a goderci il nostro samuele e quanto è bello potersi intrattenere col signore gesù quando era su questa terra nel vedere i suoi discepoli impegnati gli disse un giorno marco 6 31 venitevi in disparte in un luogo solitario andiamoci insieme riposiamoci un poco il signore quando tu ti intrattieni con lui vuole dare riposo all'anima tua quel riposo che non puoi trovare in nessun'altra cosa neanche quando scorri sul cellulare neanche quando guardi la televisione neanche quando guardi su youtube quel riposo che trovi sulla terrazza nel locale di culto alla presenza di dio non lo trovi da nessuna parte non ti provare non ti privare di questo riposo cerca il signore cercalo con tutto il tuo cuore intrattieniti col signore non mettere dei limiti ma permette al signore di poter operare nella libertà perché il signore vuole fare del bene all'anima tua noi spesso ricordiamo la storia di marta e di maria e a verità come dicono a cranzaro simpatizziamo tutti quanti con marta e ci assomiglia tanto marta e la giustifichiamo perché inevitabilmente di riflesso giustifichiamo noi stessi ma non dimentichiamoci mai che il signore non giustificò marta in modo dolce ma deciso la rimproverò e gli disse marta marta ti affanni ti agiti per molte cose ma una sola cosa ti è necessaria intrattenerti sulla terrazza intrattenerti nel luogo di culto col signore nella presenza di dio nella tua cameretta segreta col signore una sola cosa ti è necessaria e maria ha scelto la parte migliore quella che non le sarà mai tolta cari quando ci intratteniamo col signore e quando rimaniamo nella sua presenza senza avere la clessidra accanto ma andiamo lì e diciamo signore io sono qui sono qui per essere da te consolato benedetto sono qui signore perché l'anima mia assetata di te e l'anima mia desiderio di te il ricco stolto dice anima mia mangia bevi e godi ma io ho ricevuto intelligenza da te e so che la gioia dell'anima mia il cibo dell'anima mia il la sete dell'anima mia possono essere appagati solo dalla tua presenza e allora quando ci appartiamo col signore vediamo cose straordinarie sapete nel vangelo di marco potrei citarvi anche altri ma ho iniziato a citare quello c'è scritto che quando gesù andò sul sul monte prese con sé pietro giacomo e giovanni li condusse soli in disparte e in loro presenza mentre erano appartati mentre se ne stavano loro con gesù il volto di gesù la veste di gesù tutto alla persona di gesù divenne sfolgorante candida di un candore che nessun lavandaio sulla terra può dare perché quando ci intratteniamo col signore noi vediamo la gloria di dio non la possiamo vedere quando siamo in altre cose intratte presi non le possiamo vedere se non quando diciamo signore sono qui e mi voglio godere te le persone delle volte vanno al cinema perché si vogliono godere un film e per amor di dio si prendono pop corn e patatine si guardano i film ok va bene prendiamoci pop corn e patatine si fa per dire e godiamoci la presenza di dio quando veniamo qui nel locale di culto intratteniamoci col signore godiamo della sua presenza l'odiamolo diamo spazio allo spirito nostro di potersi spandere davanti a lui quando sempre nel vangelo di marco leggiamo che il signore presa un certo punto i suoi discepoli e un uomo che aveva un problema al diudito dice che lo condusse fuori dalla folla noi siamo troppo presi dalla folla siamo presi dai problemi della vita siamo presi dagli impegni dagli incontri eccetera eccetera ma il signore ci vuole condurre di tanto in tanto fuori dalla folla e lì proprio in quel luogo scusate ma questo fece gli mise le dita negli orecchi e alzando gli occhi al cielo sospirò e disse effatà che vuol dire apriti e gli si aprirono le orecchie e gli si sciolse la lingua e parlava bene perché in disparte appartati col signore noi possiamo vedere anche dei miracoli nella nostra vita possiamo vedere dei miracoli materiali fisici e dei miracoli spirituali si può sciogliere la nostra lingua affinché cominciamo a parlare in lingue nuovo secondo che lo spirito ci darà di esprimere si potranno aprire le nostre orecchie affinché non siano più indurite dinanzi alla parola che dio ci vuole dare possono succedere miracoli quando ci appartiamo col signore e dio ci dia grazia come fece in quel giorno saulo di rimanere appartati col signore qualcuno ha detto di recente che il problema non è che il signore non fa più miracoli ma che noi non diamo più il tempo al signore di fare i miracoli 30 secondi signore se vuoi proprio fare il miracolo io poi ci ho fretta ma noi ci vogliamo intrattenere nella presenza del signore vogliamo mettere la fretta da parte perché le cose di dio sono troppo preziose per essere consumate come un hamburger al mcdonald devono essere gustate se deve godere della presenza di dio ci dobbiamo intrattenere nella presenza del signore e samuele e saulo se ne stanno in disparte e a un certo punto la mattina dopo si ripete la scena perché samuele e saulo si alzano presto e vanno di nuovo lì sulla terrazza e si intrantengono un altro poco e qui c'è un altro importante insegnamento per la nostra vita che riguarda il giorno che inizia io spero che tutti quanti noi domani mattina ci possiamo alzare di nuovo spero che anche voi lo desiderate però ricordiamoci che ogni giorno che inizia è un dono del signore e se vogliamo affrontarlo bene questo giorno dobbiamo imparare a intrattenerci col signore anche la mattina dobbiamo fare colazione ci dobbiamo lavare denti faccia naso dita tutto quello che volete però ci dobbiamo anche intrattenere col signore perché vedete le giornate si affrontano in un modo diverso quando le sappiamo iniziare nella presenza di dio era l'alba dice la scrittura si alzarono allo spuntare dell'alba samuele chiamò saulo sulla terrazza e gli disse vieni perché ti devo lasciare partire e poi gli disse manda il tuo servo avanti ma tu fermati perché io ti devo far udire la mia parola non permettiamo che la mattina inizi senza aver udito la parola del signore la mattina leggitelo un passo un salmo un brano dei vangeli non mi interessa quale leggi la parola del signore ascolta la voce di dio ne hai bisogno perché la giornata sarà dura la giornata sarà carica di impegni nella giornata avrai tante tentazioni e tante opportunità per poter agire e comportarti male nella giornata ci saranno occasioni in cui la tua ira potrebbe scattare durante il giorno che stai per affrontare può succedere di tutto e se tu non ti fermi lì per ascoltare la voce di dio per lasciarti plasmare dalla mano del signore povero me povero te l'avversario avrà la vittoria è altro che immagini di cristo si verrà tutt'altro ma noi la mattina ci vogliamo fermare lì nella presenza di dio un fratello che ho conosciuto nella comunità dove il signore si è rivelato nella mia vita si chiamava sarino vi posso dire il nome perché tanto non lo conoscete ora è col signore quindi non lo potrete conoscere era un fratello anziano che spesso raccontava di quando udì la voce di dio ma proprio l'audì con le sue orecchie nella sua vita dopo tanti tanto tempo che stava c'erano anni primo dopo guerra che stava cercando lavoro finalmente lo trovò e quella mattina tanto era preso dal fatto che doveva andare a presentarsi puntuale preciso tutto ben sistemato lì al lavoro perché era un'opportunità che forse non gli sarebbe capitata che si preoccupò di tutto come doveva essere vestito ben rasato eccetera eccetera e poi ah sì devo pregare signore accompagnami durante questo giorno nel nome di gesù amen va per uscire dalla porta mentre apre la porta sento una voce che gli dice sarino io sono il signore e lui li crollò sulle sue ginocchia e cominciò a piangere e disse signora abbi pietà di me perché noi delle volte siamo talmente presi dalla vita dalla fretta posso usare un'espressione dialettale dalla prescia che tanto il signore capisce il signore ha diritto di intrattenersi con te perché se sei stato salvato salvata tu sei suo figlio o sua figlia e sapete noi genitori quando i nostri figli devono affrontare una giornata soprattutto quando sono piccolini gli diamo tutte le raccomandazioni del caso mi raccomando non fare questo non dire questo guardati eccetera eccetera non pensare di essere grande tu sei ancora bisognoso e bisognosa del tuo padre celeste dei suoi consigli e delle sue parole la mattina fermati ascolta la parola di dio spendi del tempo nella sua presenza e poi inizia la giornata e dio sarà con te e lui ti aiuterà e allora vedrai che con la sua forza certe reazioni certi scatti certi azioni certi pensieri li vincerai perché il signore ti darà la forza per combattere e vincere contro te stesso e contro le tentazioni del mondo che sono intorno a te perché dio vuole avere dalla sua parte dei figli vittoriosi perché la sera quando poi la giornata finisce vuole sentire il nostro resoconto sì perché un giorno i discepoli tornarono dopo essere stati mandati a due a due e la prima cosa che fecero fu andare da gesù e anche la sera cari intratteniamoci qualche minutino col signore e al signore gli cominciarono a dire signore quello che non abbiamo visto nel tuo nome i malati guariti i posseduti liberati quello che non abbiamo visto signore e gesù gli disse rallegratevi non per i miracoli ma rallegratevi perché il vostro nome è scritto nel libro della vita impariamo a intrattenerci col signore nella chiesa a casa prima che la giornata inizi quando la giornata finisce impariamo a intrattenerci col signore ad ascoltare la sua voce la sua parola perché allora avverrà qualcosa di meraviglioso perché samuele dopo essersi intrattenuto con lui la mattina e avergli fatto ascoltare la voce di dio prese un vasetto d'olio lo versò sul capo di lui baciò saul e gli disse il signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità quanto è preziosa quell'unzione mattutina che viene dalla presenza di dio lo spirito santo che scende sul nostro capo e che dà vigore all'anima nostra e alla nostra fede e che ci permette di poter affrontare la giornata non con la forza che viene da noi ma con la forza che viene dall'alto voi riceverete potenza quando lo spirito santo scenderà su di voi impariamo a intrattenerci nella presenza di dio e impariamo a intrattenerci per ricevere quell'unzione necessaria affinché noi possiamo essere dei bravi passatemi questo termine soldati anche se in questo periodo rievoca brutte immagini soldati di cristo gesù che combattono il buon combattimento della fede che non è contro carne e sangue ma è contro l'inferno che cerca in tutti i modi di allontanarci personalmente come cristiani dalla presenza di dio lo unse e lo baciò perché sapete era un segno di affetto di comunione di intimità e anche di approvazione e noi desideriamo il bacio del nostro signore è esagerato lo so mica ci può baciare con le labbra il nostro signore gesù cristo egli non è più in carne rossa egli in spirito però nel cantico dei cantici è scritto mi baci egli della sua bocca perché le sue carezze sono migliori del vino i suoi profumi hanno un odore soave il suo nome è un profumo che si spande perciò ti amano le fanciulle attirami a te e noi ti correremo dietro il re mi ha condotta nei suoi appartimenti noi gioiremo ci rallegreremo a motivo di te noi celebreremo le tue carezze più del vino ha ragione sei amato qui si sta parlando di uno sposo e il nostro sposo è gesù cristo e noi vogliamo lasciarci attirare da lui vogliamo vivere nelle sue stanze nei suoi appartamenti ci vogliamo rallegrare nella sua presenza più di quanto ci possiamo rallegrare in questo mondo vogliamo essere baciati e amati dal nostro signore perché l'amore di dio è un amore che sopravanza ogni intelligenza e che nessuno di noi può conoscere se non quando si arrende a lui e permette alla sua grazia di entrare nella sua vita quanto è bella la presenza di dio e quanto è bello quando ci appartiamo per stare con lui per udire la sua parola e per ricevere la sua unzione quanto è bello e quanto è caro e quanto è piacevole quando i fratelli vivono insieme e come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba sulla barba da ronne fino all'ollo dei suoi vestiti e come la rugiada dell'ermon che scende sui monti di sion la infatti signore ha ordinato la sua benedizione e la vita in eterno quanto è preziosa la presenza di cui possiamo godere nella stanzetta segreta e la presenza che possiamo godere qui insieme ai santi e allora forse per questo l'inferno cerca di allontanarci dalla stanzetta segreta e dalla comunione dei santi e fa di tutto affinché noi possiamo intrattenerci con mille altre cose e mai col signore ma stamattina vogliamo dirgli al nostro avversario e nemico satan e l'inferno lo spirito di dio fatemi passare questa espressione ti ha sgamato ci ha rivelato i tuoi tranelli i tuoi trucchi le tue astuzie le tue macchinazioni finora eravamo nell'ignoranza e ci ha ingannato ma oggi non ci lasceremo più ingannare vogliamo intrattenerci col nostro dio col nostro salvatore che cosa di gran lunga migliore andiamo sulle nostre ginocchia chiudiamo i nostri occhi chiamiamo il nostro capo permettetemi intratteniamoci col nostro signore gloria al nome di dio